E gli operatori del progetto La Puglia non tratta insieme per le vittime denunciano che l'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus ha reso ancora più invisibili le vittime dello sfruttamento sessuale e lavorativo. Sentite. Hanno dovuto fare i conti con la pandemia, con la paura del contagio, con la difficoltà di guadagnare, con l'immobilità e con l'incertezza rispetto al proprio futuro. L'emergenza sanitaria legata al covid ha sconvolto le vite di tutti, in particolare delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo. Donne, uomini e bambini che ogni giorno vengono sfruttati nell'ambito della prostituzione, dello sfruttamento lavorativo domestico, delle economie illegali, dell'accattonaggio forzato, del traffico di organi. La circolazione del virus ha toccato anche le loro vite già fragili, invisibili, provocando ulteriori disagi sociali, economici e alimentari. Lo sanno bene gli operatori del progetto La Puglia non tratta insieme per le vittime, il cui intervento nell'area territoriale della Capitanata, che comprende i Monti Dauni, Tavoliere delle Puglie e Promontoro del Gargano, è svolto dalla cooperativa sociale Med Training di Foggia. Da marzo 2020, nei vari periodi di confinamento in casa o di lockdown, sulle strade di Capitanata il numero delle donne che si prostituivano sulle strade è caduto verticalmente rispetto a numeri dei mesi precedenti. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2020, gli operatori del progetto, soprattutto attraverso il lavoro dell'unità mobile di strada, hanno effettuato 113 contatti, che paragonati ai dati del primo semestre dell'anno, contavano addirittura 741 contatti. Questo però non vuol dire che il fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo sia scomparso, anzi, in questo periodo di tempo sospeso è diventato ancora più subdolo e più invisibile. Molte delle donne incontrate dagli operatori sulla strada hanno raccontato di aver esercitato l'attività prostitutiva all'interno di appartamenti, venendo così meno anche la possibilità di accedere a visite mediche specialistiche e di prevenzione, accompagnamenti sanitari nelle varie strutture e incontri individuali. Gli operatori del progetto La Puglia Non Tratta hanno raccolto numerose richieste di aiuto economico alimentare da parte delle donne che hanno continuato a prostituirsi. La Puglia Non Tratta, ricordiamo, è un progetto attivo ormai da tre anni con l'obiettivo di assicurare alle persone vittime di tratta adeguate condizioni di alloggio, vitto, assistenza, protezione e integrazione sociolavorativa. E' finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dalla Regione Puglia, sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale. In collaborazione con sette enti antitratta del territorio regionale, le cooperative sociali Med Training di Foggia, la comunità Oasi 2 San Francesco Onlus di Trani, a tutto tenda di maglie Lecce Caps Bari e le associazioni Giraffa a Bari, Michela Adelfia Bari e la comunità Papa Giovanni XXIII.